Gentili telespettatori, buona giornata. Padellaro, che scrive sul Fatto Quotidiano, se la prende con Matteo Salvini, dice pessima figura. Ecco che cosa c'è dietro i suoi attacchi alla Lamorgese. Ma che cosa vedrà Antonio Padellaro, ospite di Tiziana Panella, a Tagadà, sulla sette, nella puntata di ieri, 14 settembre. Ovviamente il suo obiettivo è Matteo Salvini, sul perché se la prende con Luciano Lamorgese. Lui dice che l'impressione è che Salvini voglia pareggiare i conti dopo che Durigon si è dovuto dimettere. Quelle dimissioni imposte da Draghi, osserva l'editorialista del Fatto, hanno lasciato un segno dentro l'apparato della Lega perché ora Salvini è assediato, soprattutto a livello periferico, dai vari Zaia, i vari Zaia, che vogliono una linea diversa. Quindi è il ragionamento di Padellaro, Salvini mette la bandierina utilizzando la polemica con la Lamorgese. Io credo proprio di no. No, perché prima di tutto Salvini contro la Lamorgese comincia prima della storia di Durigon. Quello che sta facendo la Lamorgese, cioè niente è sotto gli occhi di tutti. C'è anche bisogno di chiedersi il perché Salvini ce l'abbia con la Lamorgese? Ma caro Padellaro, ma non ti rendi conto che i confini sono dei colabrodo? Non c'è nessun controllo dei confini? Dal rave party con diecimila persone che sono venuti in Italia perché non gliel'avrebbero permesso nessun paese europeo e vengono nella Repubblica delle Banane a farsi rave da diecimila persone in un terreno di proprietà privata. Quindi caro Padellaro c'è da chiedersi perché Salvini ce l'ha con la Lamorgese? No, sarà per Durigon. Sarà perché la Lamorgese non fa il suo lavoro? Vabbè, non lo fa perché deve riferire a Draghi, Draghi poi non fa niente, quindi né lei né Draghi la coppia dell'immigrazione del ministero dell'interno non fa niente, ma andare a scervellarsi Salvini ce l'avrà con la Lamorgese? Sarà per Durigon? Ma caspita, ma non lo vedi come siamo messi con l'immigrazione? 42.000 sbarchi in otto mesi? 42.000? Quando con Salvini erano 5.000? Bah, insomma. Ma così, voi sapete che i giornalisti di sinistra vanno su... Poi rincara, dice, lei tra l'altro ha un ruolo delicato, deve stare attenta a quello che dice e quello di Salvini è un modo poco corretto di comportarsi, non c'è nulla che non sia colpa della Lamorgese, indebolisce così le istituzioni e Salvini in questo non ci fa una bella figura. No, Salvini fa benissimo a dire che la Lamorgese non fa il suo lavoro perché la Lamorgese non fa il suo lavoro, dice, è tutto colpa della Lamorgese? Certo, la Lamorgese, il ministero dell'interno come ministro, è capo della sicurezza del paese, è capo della sicurezza del paese, quindi se ci sono... non c'è controllo dei confini, non c'è controllo dell'immigrazione, ci sono... gli sbarchi sono per dieci volte, dieci... non dieci volte e si dà la colpa al covid, ad altre cose, insomma non si vuole vedere la realtà, ma la domanda mia è questa, perché i giornalisti di sinistra non vogliono vedere la realtà? Cosa c'è di male Padellaro a dire sì io sono d'accordo con Salvini, la Lamorgese non sta facendo niente? Che cosa significa difendere la Lamorgese? Che io non riesco a capire. Che significa? Come letta? Noi difendiamo la Lamorgese? Ma cosa vi difendete? Cioè è sotto... il problema di un ministro dell'interno che non fa il suo lavoro non è un problema, non c'è un muro ideologico, se la politica vede che questo ministro non funziona deve essere un accordo trasversale, la mandiamo a casa e ci mettiamo un altro. No, allora se Salvini dice che non va bene, dall'altra parte tutti devono dire che va bene, è un comportamento di un infantile che di più non c'è. Noi siamo in mano a politici e giornalisti infantili. Perché quando mi vieni a dire, ah chissà perché Salvini ce l'ha con la Lamorgese, ma che non lo vedi? Ma non lo vedi coi tuoi occhi? No, però lui deve dare contro per forza Salvini. Se lo invitano in una trasmissione non può dire Salvini ha ragione, la Lamorgese va cambiata. Lì si tratta di onestà intellettuale, onestà intellettuale. Io vi sto dicendo che Salvini ha ragione. In altre cose vi dico Salvini ha torto. Non difendo sempre Salvini o attacco sempre Salvini, difendo sempre Meloni o attacco sempre Meloni. Bisogna ragionare. Almeno io non ho nessun padrone, non ho nessun datore di lavoro. Io vi dico quello che mi pare e piace, senza che nessuno mi dice, ma cosa dici? Si arrabbia quello lì poi. A chi se ne frega? A chi se ne frega? Io l'unico datore di lavoro è l'università e Google con YouTube che mi paga ogni mese. Tutto lì non devo rendere conto a nessuno. A nessuno. A nessuno. Questo canale non è di nessun partito politico. Non conosco nessun politico. Non ho mai parlato con Salvini, né per telefono, né per email. Non ho mai parlato con Giorgio Meloni. Non conosco Letta, non conosco Di Maio, non conosco Grillo, non conosco Speranza. Non conosco nessuno. Mai avuto un contatto con nessuno di questi e nessuno di questi partiti. Pertanto io non devo dire sì signore a nessuno. Non devo difendere a priori nessuno. Oggi mi va di dire questo, domani mi andrà magari di cambiare idea, dire un'altra cosa. Sono le mie opinioni. Chi mi vuole guardare mi guarda. Chi mi dice questo è troppo, mi cancello. Bye bye, au feeders and goodbye. Io ho mille iscritti al giorno. mille iscritti al giorno. Se qualcuno se ne va indignato perché non difendo il suo capetto a priori, non mi interessa. A me i tifosi col paraocchi non mi interessano. Nel senso che qualcuno di voi dica me ne vado, non me ne può fregare di meno. Vi dico ho 200, 300, a volte anche 700 iscritti al giorno. Secondo voi mi posso preoccupare perché uno mi dice questo è troppo, mi cancello, ma che me frega, ma che me frega, ma che me frega. Comunque, va bene, volevo raccontarvi questa cosa di Padellaro. Vabbè, lavora al fatto quotidiano, insomma. Ma anche Veronica Gentili lavorava al fatto quotidiano. Adesso lavora in Mediaset con il Berlusca. Le vie del giornalismo sono infinite, infinite. Grazie a tutti per avermi ascoltato. Ci vediamo domani per un altro video. Guardate anche Teleitalia al canale principale. Lì ci sono molti più video che qua su Teleitalia Seconda Rete. Grazie a tutti. Buon proseguimento di giornata. nella community di Teleitalia al canale principale. Vi ci sono tanti sondaggi ai quali poter partecipare. Poi su Facebook questi video vengono condivisi dopo qualche ora in modo che se li volete condividere sui vostri profili lo potete fare tranquillamente. Tranquilli, sono io il paninaro, come dicevano negli anni Ottanta. Va bene. Arrivederci a tutti e grazie.